Scopriremo il lato rurale. Rurale. Mamma mia, scioglilingua. Ciao, sono Francesca. Oggi voglio parlarti del nostro viaggio organizzato a Yellowstone e grandi parchi americani. È difficile descrivere a parole la forza della natura che vedremo di fronte a noi. Geyser, montagne, foreste, praterie, branchi di bisonti allo stato brado e orsi nel loro habitat naturale. Tantissime emozioni in una sola incredibile avventura. Lo Yellowstone National Park è il più antico parco nazionale del mondo ed è la più grande riserva naturale degli Stati Uniti. Insieme alle Galapagos, il Serengeti, il Pantanal brasiliano, il parco dello Yellowstone è uno dei luoghi migliori per osservare la natura selvatica. In particolare, qui è facile vedere grandi mammiferi come le alci, le mani di bisonti, i branchi di cervi e i huipiti. In questo viaggio di gruppo scopriremo il lato rurale degli Stati Uniti, tra Utah, Wyoming, Arizona e Nevada. Impareremo anche delle curiosità sui mormoni a Salt Lake City, nello Utah. E una volta arrivati a Las Vegas, ci potremo divertire facendo dei confronti, dato che saremo nella Sim City, nella città dei peccati, dove passeremo una notte sulla Strip, la via principale della città. Ammireremo la natura regogliosa e dirompente dei grandi parchi nazionali americani, che sembrano sfidare il concetto di grandezza, con silenzi assurdanti e irreali. Tutti gli spostamenti verranno effettuati con un nostro minivan privato, guidato direttamente da noi accompagnatori d'agenzia. Prepara una camicia a scacchi di franella e un binocolo. Partiamo alla scoperta delle meraviglie naturali americane. Cominceremo con Salt Lake City, la capitale dello Utah e la città dei mormoni. E poi partiremo per i panorami selvaggi del Montana, con il Grand Tito National Park. Qui vedremo l'ormè abbandonato e antico villaggio di Mormon Row, in uno scenario da cartolina. Passeremo tre giorni all'interno dello Yellowstone National Park, con le sue meraviglie naturali, tra cui animali selvaggi, come Yogi e Bubu, getti di acqua bollente e il fenomeno geotermico incredibile della Grand Prismatic Spring. Attraverso delle passerelle è possibile addentrarsi nelle nebbie varie pinte in questo anello di alghe multicolore. L'Old Faithful, invece, è uno dei simboli del parco. Questo geyser è rotto ogni 90 minuti con una precisione che nessun altro geyser nel mondo ha. Le Mammoth Hot Springs sono uno spettacolare sistema di piscine calcare e ad altopiani. E vuoi che dire del Grand Canyon dello Yellowstone, uno dei luoghi più spettacolari del parco. Si tratta di un canyon profondo 300 metri in cui scorre l'impietuoso Yellowstone River. In questo viaggio anderò da negli Stati Uniti, ammireremo gli alti pinnacoli e gli acchi di roccia dell'Archies National Park. Dopodiché andremo anche a vedere gli iconici monoliti della Monument Valley nella riserva Navajo. Scenderemo anche nel meraviglioso Telo Canyon, incontreremo i nativi e parleremo della loro cultura, avendo anche un po' di tempo per fare degli acquisti particolari. Ammireremo l'immensità del Grand Canyon del versante nord, una delle sette meraviglie del mondo naturale. E infine visiteremo diversi punti panoramici dello Zion National Park, come l'Emeral Pools. I nostri viaggi organizzati on the road sono pensati per gruppi di piccole dimensioni. Così i partecipanti hanno un modo di stringere nuove amicizie e creare nuovi ricordi. La parte più bella di questi viaggi è proprio la condivisione. Se anche tu sogni una vacanza in pieno stile on the road, questo è proprio un viaggio adatto a te. Le giornate del tour sono intense e ricche di visite. Non è di certo una vacanza rilassante, ma le meraviglie che andremo a visitare appagano talmente tanto che ne vale lo sforzo. Cambieremo del coraggio ogni giorno, quindi la tua valigia deve essere comoda da trasportare. Abiti comodi, leggeri e multistrato sono la regola per questo viaggio. Insieme a scarpe comode con una buona suona anti-scivolo per tutte le escursioni nei vari canyon. L'aria condizionata negli Stati Uniti, purtroppo, è sempre molto alta nei ristoranti e nei locali. Per questo motivo ti consiglio di prendere un full-art o una sciarpina per coprirsi la gola la sera. E, infine, per non mancare, un buon cappello per coprirsi e ripararsi da sole durante le varie escursioni nei canyon, magari in stile cowboy. Troverai tutti i dettagli di cose incluse in questo viaggio sulla scheda pubblicata sul nostro sito www.ilviaggichetimanca.com. Anche questo viaggio organizzato prevede che almeno uno dei nostri accompagnatori parte ai viaggi col gruppo dall'Italia, dando assistenza e prestando attenzione ad ogni singola esigenza.